buonasera ormai è natale siamo quindi tutti i buoni andiamo a perdonare tutti sia ladri che assassini c'è però una categoria di persone che io personalmente faccio più fatica a perdonare si sono quelli che qualunque roba ti sia successa allora è successo di più ma molto di più raccontavo quindi un amico di una cosa nel deserto inseguito da una tribù di beduini arrapati non vedevano una donna da due anni quindi erano anche di bocca buona cavalcavano cammelli che non vedevano una cammella da tre anni quindi quindi anche i cammelli erano di bocca buona sul braccio dei beduini poi stavano appollaiati dei falchetti e non vedevano una falchetta da quattro anni quindi anche i falchetti erano di becco buono tutto questo sotto un sole che picchiava come un martello pneumatico che apre il marciapiede e il marciapiede ero io acqua nient'acqua tutto secco asciutto asciutto come il portafoglio di mia moglie dopo il black friday scendendo poi da una duna alta quattro metri metto giù male il piede storto crasca la caviglia la caviglia anche alla parola la caviglia il mio amico che non mi stava cagando di pezza si sveglia fa sì la caviglia c'è io una bella storia sulla caviglia e li capisco subito che non finirò mai il mio racconto della mia caviglia perché lui attacca con la venticinquesima edizione della sua caviglia comincia stavo sul divano beh io ero nel deserto a un certo momento suona il telefono a me mi suonavano invece i beduini e così devo alzarmi dal divano sti cazzi sei un eroe greco solo che prescendi giù dal divano metto giù male il piede e crack la caviglia ma molto peggio della tua caviglia fa davanti a me tutto il soggiorno torrido da attraversare senza acqua perché figli te un rubinetto a casa non ce l'hai proprio no poi in mezzo al soggiorno il tappeto mi fa una piega altissima piega altissima rampicare avrei dovuto probabilmente superata la piega altissima arrivo al telefono ero qua giù ormai arrivato al telefono e mi squilla anche il citofono ah citofono no vai sul citofono la so cos'è che sai te sai chi era eh sì 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 te mi devi perdonare però ho voluto fare un regalo di natale alla tribù dei beduini e gli ho lasciato il tuo indirizzo di casa tanti auguri